Buongiorno a tutti, oggi video brevissimo solo per un annuncio. Se come me siete orfani di finale, se non avete ancora deciso se migrare ad Orico, se non avete ancora deciso se passare all'eterno rivale di finale, ovvero Sibelius, se non avete ancora deciso se magari prendere in considerazione un'opzione open source come MuseScore, se, 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 come diceva Kipling, se questi sono i dubbi che vi attanagliano, non perdete la live che farò venerdì 4 ottobre alle 21, perché ospite di questa live sarà Michele Spagnolo, che è un iscritto del canale, col quale ho avuto una molto proficua chiacchierata qualche giorno fa, talmente proficua che ho detto che è un peccato che quelle cose, come dire, che hai detto a me, tu non le dica ad altre persone. Per cui, e sarà veramente l'occasione nella quale potrete fargli tutte le domande su tutti i dubbi esistenziali che avete, di compatibilità fra vari software, quale è migliore, quale è peggiore, quale in prospettiva è più longevo, insomma, capite che è una delle rare occasioni in cui potete parlare con qualcuno che il software conosce dall'interno e non dall'esterno come noi poveri fruitori. Quindi preparatevi le domande da fargli, se invece sapete che quel giorno non potrete esserci, scrivetemelo qui nei commenti e io li riporterò, ma cercate di esserci perché non vi capiterà facilmente un'altra occasione del genere. Ribadisco, venerdì 4 ottobre alle ore 21 qui su canale YouTube. Non mancate davvero stavolta.